Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 per lavori ci sono rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud. Sulla A1 in direzione Bologna, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla FIPILI per lavori possibili disagi tra Empoli Est e Montelupo. È chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. I treni ricordiamo che per uno sciopero nella giornata di oggi potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!